Ci troviamo nello stand della Grinta, che è un'azienda che si occupa di sistemi di riposo. Abbiamo qua un signore straordinario, simpatico, che ha appena fatto acquisti. Lei che cosa ha acquistato? Un cuscino per la cervicale, abbiamo sempre problemi. E questo potrebbe essere molto utile, certamente, visto che non si riesce a curare con un guenti, con nessuna cosa, questo cervicale. Lei mi sembra una persona abbastanza allegra. Che fa nella vita? Canta? Ma sì, beh, canto. Ho studiato anche musica classica, come autodidatta. Faccio un po' di tutto, come nella mosca, popolare, un po' di tutto. C'è qualche brano che ci potrebbe intonare oggi, qua in questa fiera? Proviamo, perché non c'è la chitarra, vediamo un po' se... Ci spiace, vabbè, il nostro pubblico capirà, non ha la chitarra, il signor Frustagli, da Sant'Andrea Apostolo. Allora, cosa intoniamo? E serenata napoletana, va, serenata. Serenata napoletana. Mi dimmi, chi pensi a settate? Tutte sole, a dritte, se lastre. Faccio amore, rimpetto stampate. Vecco l'ombra, e che sombra, sei tu. Non la facciamo tutta, non la facciamo tutta. Perfetto, perfetto. Signor Frustagli, lei è fantastico. Adesso però ci vuole uno slogan per questo cuscino che lei ha comprato. Si ricordi, siamo allo stand della grinta. Beh, dormire è la cosa più importante, perché svegliarsi bene è la cosa più importante, cominciare una buona giornata. Questo penso che è la cosa, no, un'altra. Il cuscino sembra una sciocchezza, ma è una cosa molto importante. Tant'è vero che mio fratello mi diceva, sai, non sapevo che il cuscino era così importante. Mi sentivo sempre strano, dormivo con un cuscino basso, alto, e dico amico mio, è sempre una sciocchezza, ma il cuscino è una cosa importante.